La didattica incontra il videogioco nell'Olimpiade nazionale ospitata dal convitto Mario Pagano di Campobasso, un'iniziativa che ha coinvolto gli studenti di molte scuole della regione in una competizione tra squadre che si sono sfidate nella realizzazione di un videogioco a scopo didattico. L'iniziativa di Game School è un'iniziativa a livello nazionale, importantissima, che mette i ragazzi alla prova su una delle competenze che hanno acquisito anche nel loro tempo libero, che è quello del gioco, la programmazione di un gioco. Il tema che è stato dato quest'anno, perché appunto è un tema nazionale, è quello del viaggio. Quindi dovranno creare un gioco, spiegando per bene quale è tutta la scansione dell'organizzazione, parlando di un viaggio. Quali sono le finalità di questa iniziativa? Le finalità sono semplicemente quelle di dimostrare le competenze che i ragazzi acquisiscono quotidianamente nello studio e qui nelle scuole e anche nella loro vita. Quindi c'è una parte proprio disciplinare e una parte invece che fa parte della fantasia e delle loro attitudini personali. L'esperienza attuale è quella di mettere a sistema una metodologia legata all'edutainment, da un lato è il gaming, cioè sono sperimentazioni di processi cognitivi che si basano sul gioco o quantomeno sull'imparare dall'errore e per risalire in maniera induttiva alla regola di un processo. E nell'ampia letteratura che caratterizza l'innovazione didattica della scuola attuale, il gaming e l'edutainment rappresentano degli elementi, dei passaggi molto importanti perché tra le altre cose poi tirano in gioco tutta una serie di dimensioni trasversali che sono quelle affettive o relazionali, quelli di compartecipare alla progettazione di un prodotto, la condivisione, che sono aspetti molto importanti, viste nell'ottica di una prospettiva e di una proiezione della scuola come percorso per accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro.